flint è terribile il castello gommoso è stato invaso vai all'ultimo piano sam e aspettami lì ok sono all'ultimo piano nasconditi sam non è il mio stile flint si 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 forchetta matica battaglia alimentare 3 e sta tutto a me mega tirapugno forchetta matica colt elettrico mega tirapugno potere della scienza mega tirapugno colt elettrico vai si ho affetto rama l'eroe elude il nemico e penetra nella fortezza allarme zampettio flint i passeratti attaccano i turisti ho affetto rama ho affetto rama aderenza persa si 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 vai vai si si mega tirapugno mega tirapugno vai si fai yeah 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 Aderenza persa! Oh! Trasporto! Trasporto attivato! Rimbalzatori attivati! Verticatore attivato! Ponte burroso attivato! Aderenza persa! Vai! Ponte burroso attivato! Ponte burroso attivato! Ponte burroso attivato! Elettroaffettatura! Elettroaffettatura! Affettamento! Forchettamatica! 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 Colt elettrico! Vai sì! Gas tossici lo circondano! Ma Lockwood è impavido! Allarme zampettio! Gas tossici lo circondano! Ma Lockwood è impavido! Allarme zampettio! Rilocalizzazione iniziata! Trasporto attivato! Trasporto attivato! Trasporto attivato! Trasporto attivato! Mega tirapugno! Colt elettrico! Colt elettrificazione! Sì! Sì! Voila! Bon! Vai sì! Ciao! Infilzare! Yeah! Inforcazione! Inforcazione! Aderenza persa! Inforcazione! Radunarsi! Yeah! Oh! Iuppi! Impilzare! Inforcazione! Permettimi Radunarsi! Rilocalizzazione iniziata Ponte burroso attivato Trasporto Trasporto attivato Permettimi Permettimi Trasporto attivato Trasporto attivato Hai ancora quell'iscatolatore nella galleria? Certo, lo accendo subito. Ho affetto Rama! 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 Si! Colt elettrico! Ah! Ah! Yeh! Ho! Yeh! Hmph! Yeh! 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 oh yeah oh yeah yeah oh yeah 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 oh oh inforcazione conficcare la macchina è pronta flint oh corri flint caricali scatolatore l'hockwood entra in azione infilzare infilzare ciao hai hai corri flint caricali scatolatore ciao ciao l'hockwood entra in azione inforcazione 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 colt elettrico l'hockwood entra in azione colt elettrico colt elettrico colt elettrico colt elettrico colt elettrico Arance! Tutte per te, Flint! Perfetto, Sam! Ho affetto Rama! Ho affetto Rama! Vedi? Non sei felice di essere venuto? Ok, lo so, non è il momento di scherzare. Vai, sì! Marmellizzazione! Non abbiamo altro, Flint, deve funzionare. Mega tirapugno! Sì! Vai, sì! Sì! Sbriciolamento! Marmellizzazione! Non abbiamo altro, Flint, deve funzionare. Buon? Sbriciolamento! Polverizzazione! Ah, non funziona! C'è altro cibo! Yeah! Oh! Yuppie! Yuppie! Colto elettrico! Oh! Ciao! Sì! Yeah! Vai! Sì! Non abbiamo altro, Flint, deve funzionare. Corri, Flint! Caricali in scatolatore! Mega tirapugno! Colto elettrico! Qui c'è altro cibo, Flint! Verticatore attivato! Blah! Arance! Tutte per te, Flint! Perfetto, Sam! Vedi? Non sei felice di essere venuto? Ok, lo so, non è il momento di scherzare. Mega tirapugno! Sì! Ciao! Ciao! Non abbiamo altro, Flint, deve funzionare. Achoo! Incendiamento! Blup! Lockewood entra in azione! Infilzare! Colto elettrico! Ciao! Tirapugno! Tira pugno! Il castello è di nuovo bellissimo, Flint. Ti fermi per un po'. Le cose peggioreranno là fuori, Sam. Tornerò! Promesso! Grazie a tutti. Grazie a tutti.